Secondo alcuni siti web, tra cui wikipedia.org, Paola Francesca Ferrari è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Attiva il RAI fin dagli anni 90. Ha condotto i principali programmi sportivi della televisione pubblica, come la Domenica Sportiva e Novantesimo Minuto. So di essere nel posto giusto. Non mi piace fare la TV del dolore, e chi mi conosce lo sa, ma mi sembra giusto venirne a parlare. È una parte della mia vita che mi ha dato grande sconvolgimento e dolore, l'impossibilità ad andare oltre. Io sono una mamma e sono una figlia unica. Ho avuto sempre voglia di avere un fratello. Poi improvvisamente, quattro anni fa, ho scoperto di avere un fratello, non dirò tutto ma solo perché voglio proteggere le persone emotivamente coinvolte. È un ragazzo splendido. Quando vedo le foto mi si ferma il cuore perché ha la mia faccia e i miei occhi. Quando l'ho saputo ho fatto delle indagini per averne la certezza. Ma purtroppo ho scoperto che era morto quando aveva circa 35 anni. Avrebbe una decina di anni in meno di me. Come l'hai scoperto? Ha domandato la Daniele tramite una persona a cui era stata fatta questa confessione che non ce l'ha fatta a tenerla dentro. E me l'ha detto. Era figlio di mio padre. E un ragazzo che ha avuto anche qualche difficoltà economica. E mi è dispiaciuto molto non averlo potuto aiutare. Quando l'ho saputo è stata un'emozione fortissima. Tra l'altro lui era figlio unico come me. Il mio grande dolore è che lui non ha saputo di me. Io di lui. La Ferrari ha anche detto di sentire il desiderio di andarlo a trovare al cimitero. Ma che è frenata dalla possibilità che la riconoscano. Ho sofferto molto. L'ineluttabile è orribile.